Flowers for Spring, Groundbreaking. E su questa citazione colta della divina Miranda Priestly, oggi nuovo consiglio letterario. Un video in realtà abbastanza particolare perché ho un bel po' di letture da consigliarvi. Eccole qui, sono dieci letture più un bonus in verità, che sono da fare questa primavera. Quindi prendete carta e penna e iniziate a segnarvi i vostri titoli. Quindi, diciamo che ho voluto fare questi consigli stagionali per mettermi anche alla prova. Perché mi risulta molto semplice in realtà consigliare dei libri per l'estate, per l'autunno o per l'inverno. In estate consigli letture un po' più leggere da ombrellone. In autunno i libri Depress perché inizia a piovere. E in inverno i classiconi e i pacchi polacchi. Facile, veloce, i libri da leggere al caminetto con la neve fuori, bellissimo. La primavera invece è una stagione più ambigua, nel senso che mi vengono in mente solo i fiori. Però mi sono messo di impegno e ho trovato delle letture che si adattano molto bene alla stagione appena iniziata. E quindi iniziamo! Evviva! Andale! Carnevale di Rio! Allora, i primi due libri di cui vi parlo non sono presenti in questa pila. Perché all'epoca li lessi in biblioteca e non sono nella mia libreria. Non significa che non siano libri da non leggere perché entrambi sono meravigliosi. E ve ne ho parlato sul canale. Il primo è un classicone. Un classicone della letteratura italiana, ovvero Il Giardino dei Finzi Contini di Bassani. Quando penso al libro di primavera mi viene in mente subito quello. Un libro denso di storia, ma dove la storia ha la sua profondità, la sua importanza, a livello di contesto e di coinvolgimento nelle vite dei protagonisti e dei personaggi. Ma allo stesso tempo è un libro molto attento agli affetti intimi e alla dimensione intima delle relazioni descritte. È un libro che, quando lo lessi, all'epoca, inizialmente mi annoiava molto per lo stile di scrittura. È uno stile di scrittura favoloso, in realtà. Però, alle prime pagine, ha quel sapore un po' antico, da altri tempi. E all'inizio è un po' respingente, o almeno io la trovai respingente. Mi è bastato però poco per abituarmi e scoprire che quello stile di scrittura era favoloso per questa storia descritta la storia di una famiglia confinata nel proprio giardino e nelle proprie abitudini domestiche. È proprio un esilio in casa propria, sotto certi aspetti. E la scrittura era perfetta per quest'atmosfera, perché era in grado di essere eterea, di dare quasi il ritmo del sogno, pur raccontando una vicenda di grande intensità. Non posso che consigliarvelo. Il secondo libro, invece, è un libro anche questo denso di storia, di ricordi, di affetti anche. Ed è un piccolissimo libro, che si legge veramente in un soffio, composto da due racconti. E sto parlando di Genius Loci, di Ella Asse. Tutti i titoli, come al solito, li trovate in descrizione. Ella Asse è una bravissima autrice olandese, edita in Italia da Iperborea, che in Genius Loci sfrutta l'elemento naturale, come anche in un altro suo libro che ho letto, che era La Fonte Nascosta, per rievocare le storie delle persone che ci hanno vissuto. Come se la natura, e in questo caso i giardini, fossero testimoni delle sofferenze umane. Bellissimo, una scrittura di una raffinatezza infinita. Dovete leggerlo. Vi ho fatto una recensione più precisa, comunque, sul canale, dove parlavo sia di Genius Loci che di La Fonte Nascosta. Sempre di Iperborea mi è venuto in mente un altro autore fondamentale, che è stato un buon ospite sul mio canale. Sto parlando di Friedrich Sjöberg, autore svedese che è dietro a questa fantastica trilogia, ovvero la trilogia del collezionismo, che parte con l'arte di collezionare mosche, prosegue con Il re dell'uvetta, e si conclude con l'arte della fuga. Il Sjöberg è folle e amatissimo. È un autore che è in grado di viaggiare con destrezza tra fiction e non fiction, tra romanzo e saggio scientifico, inchiesta, biografia. Vive proprio su più confini e riesce a creare questi ibridi affascinanti, che mi ricordano tanto La Primavera, perché sono tre libri che ruotano attorno al mondo della natura, e in particolar modo vi consiglio, per quanto siano belli tutti e tre, l'arte di collezionare mosche è un must, perché, per quanto il mio preferito sia l'arte della fuga, ma adesso vi racconto bene, l'arte di collezionare mosche è un must. È stata la mia scoperta dell'autore, me ne sono innamorato follemente. È il racconto di un uomo ossessionato dai sirfidi, che sono delle sottospecie di insetti, non sono esattamente mosche. Il libro racconta appunto la storia di quest'uomo, e ci racconta dei sirfidi, con anche interessanti digressioni da parte dell'autore stesso sul tema. Vi giuro, è riuscito a rendermi interessato agli insetti, cioè mi veniva proprio voglia di fare come il protagonista, prendere il mio retino, andare in giardino e raccattare insetti. Cioè vi giuro, bravissimo. E anche il re dell'uvetta, per quanto sia il mio meno preferito della trilogia, ve lo straconsiglio. In questo caso i protagonisti sono questi vermetti dell'uvetta, ma è l'arte della fuga quello che mi ha rapito. L'arte della fuga perché in realtà non segue perfettamente la struttura dei primi due, soffermandosi sulla storia di un pittore. Un pittore che non è un collezionista di animali, ma è un collezionista di paesaggi. Lui fa questo tour, parte dalla Svezia, finisce in America, e inizia a girare per ritrarre paesaggi. E li colleziona. Fantastico, bellissimo. Quindi trilogia da leggere tutta, ve la vi obbligo, ecco. Poi un libro, anche questo, un po' saggio, e un po' racconto, ed è sempre un viaggio, in un certo senso, in giro per il mondo, è appunto Il Giro del Mondo in Ottanta Alberi. Un libro ad opera di Jonathan Drory, e riccamente illustrato dalla bravissima Lucille Clerc. Sostanzialmente si tratta di Un Giro del Mondo attraverso gli alberi. Progetto super affascinante, dove conosciamo effettivamente storie incredibili attraverso le piante che dominano il nostro pianeta. Una storia particolarmente affascinante è quella dedicata a Venezia, perché Venezia è una città dove si crede non ci sia del verde, perché è una città che regge sull'acqua, lo sappiamo tutti. In realtà, ciò che in pochi sanno è che Venezia si regge su pale di ontano. L'ontano è un albero, effettivamente, e quindi la cosa veramente bella che traspare dal libro è come, in un certo senso, la natura, e soprattutto la flora, accompagni l'uomo sin dalle origini, sin dalle sue origini, e racconta le sue storie. E proprio come nel libro di... nella letteratura di Ella Asse, è testimone dei cambiamenti storici e molto spesso li sa raccontare. Super affascinante. Poi, un autore che si sposta un po' dalla questione giardino e natura, ma che ho trovato perfetto per la primavera, perché sono letture leggere, anche ironiche, con un po' di sapore di realismo magico, che secondo me si aratta molto bene al clima, è Prabh Dayun. Prabh Dayun, che tra l'altro ho intervistato, quindi sul canale, andatevi a vedere il video, è un autore tailandese, in realtà famoso anche come regista, grafico, sceneggiatore, ha lavorato con alcuni dei massimi maestri del cinema tailandese contemporaneo, e che debutta, almeno in Italia, con questa raccolta di racconti, Feste e lacrime, che io ho adorato, perché sono racconti anche in bilico con l'assurdo, ma mai troppo grotteschi, sono ironici, leggeri, poetici, e anche in bilico con il sovrannaturale, un sovrannaturale che però entra nelle logiche del sogno, che appartengono in un certo senso al reale, pur essendone l'opposto del reale, non so se hai capito quello che ho detto, nel senso che il reale, l'immaginario, il sogno, sembrano coesistere assieme, è super affascinante questo, e lo trovo adatto alla primavera. Poi, un libro su cui vi ho scartavetrato completamente i cosiddetti, ma ragazzi capolavoro, La schiuma dei giorni, di Boris Vian, io ve lo consiglio sempre come il libro d'amore più bello che abbia mai letto. Ora, io mi rendo conto che non sia un libro per tutti, perché è un libro scritto in un certo modo, abbastanza sperimentale, visionario, ma come non piangere, come non emozionarsi davanti alla storia di Colane e Chloé, un amore puro, che scatta, anche qui, come un sogno, non so perché associo la primavera al mondo dell'onirico, ma non c'è momento migliore per leggere questo libro, secondo me. Un libro che sa emozionare rifugiandosi nell'assurdo e raccontando la vita come se fosse un quadro di pura poesia. Basta, di più non dico perché mi rendo conto che non nomino ormai quanto la nausea di Sartre. Poi, cambiando totalmente genere, rifugiamoci da uno degli autori must della letteratura americana. E sto parlando di Raymond Carver. Ora, Raymond Carver, grandissimo autore che ha ispirato tantissimi scrittori successivi a lui. Lui mi piace molto. E in particolar modo vi consiglio di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Che io, Lessie, un po' perché è un must e un po' perché era, chi ha visto il film lo sa, era abbastanza centrale in Birdman, il film di Gnarritu. Io l'avevo appena visto, ho detto, va bene, è arrivato il momento di leggere questa raccolta, una raccolta che mi ha confermato il fascino di quest'autore, capace di raccontare il niente cosmico, nulla, nulla. Cioè, è un autore che non legge minimamente, almeno dal mio punto di vista, per quello che racconta, ma per come è in grado di raccontare l'esistenza attraverso il niente. È leggiadro, è un osservatore acuto, sa, cioè, sa proprio scavare nell'intimo anche. perché io vi consiglio in particolar modo questa raccolta, ma fatevi un regalo e leggetelo. Un libro invece dedicato a chi è un po' romantico, vuole, è alla ricerca anche di un libro che sappia farci ritornare anche alla nostra infanzia. Un libro giocoso, divertente, ma anche poetico. Amore mio infinito di Aldo 9. Bellissimo, bellissimo. Raga, se siete innamorati regalatelo a qualcuno. Bellissimo. è la visione dell'amore attraverso tre punti di vista differenti in base all'età. Aldo 9 è un autore che mi piace tantissimo perché è in grado di mischiare una sorta di visione infantile, nostalgica. Lui mantiene questo con una visione invece più adulta e anche filosofica. Lui ha proprio questa capacità di raccontare anche i lati più torbidi dell'essere umano con questo sguardo che appartiene ai bambini secondo me. Uno sguardo anche innovativo, diverso, acuto e poetico. Ed è una cosa che raramente trovo in letteratura e che lui è bravissimo a fare. In particolar modo in questo libro che contiene alcune delle visioni più belle sull'amore. Stupendo. Altro che i libri trash rosa. Da ultimo il bonus diciamo è un libro che non è una lettura però io trovo super affascinante ed è Il colore dei fiori e praticamente vabbè è fighissimo da vedere non c'è nulla da leggere se non da sfogliare e da rapirsi. Si tratta di un di esserne rapiti si tratta di un campionario cromatico di fiori e che e basta cioè quanto è bello appunto la cosa interessante che comunque è un libro pensato comunque per esperti del settore nel senso che alla fine ci sono anche queste schede che in realtà sono dei tasselli che si possono staccare si possono staccare per combinare i fiori quindi se ci sono esigenze di fare dei bouquet e non sapete se i colori dei fiori stanno bene assieme l'utilità del libro è anche quella di usare queste testere e valutare se i fiori stanno bene assieme ma raga la primavera senza fiori vogliamo parlarne cioè io mi perdo in realtà solo a guardare le foto e va bene così e il libro ad opera di Darrock e Michael Putnam che sono dei floral designer molto molto celebri a New York super influencer in questo campo il libro che ne hanno fatto è proprio bello bello da sfogliare raga mi trascina nella primavera hai detto ciò basta queste sono le mie letture della primavera fatemi sapere che cosa state leggendo voi e fatemi sapere se secondo voi le vostre letture del momento si adattano a ciò che Miranda Presley ci dice ovvero sono groundbreaking o no io vi aspetto a un prossimo video vi mando un bacione e alla prossima e ditemi anche quale dei libri ho consigliato io vi è interessato non vi è interessato insomma fatemi sentire un bacione ciao ciao a un prossimo video